4. Se esiste il senso della realtà, deve esistere anche il senso della possibilità. Chi voglia vercare senza inconvenienti una porta aperta, deve tenere presente il fatto che gli stipiti sono duri. Questa massima alla quale il vecchio professore si era sempre tenuto, è semplicemente un postulato del senso della realtà. Ma se il senso della realtà esiste, e nessuno può mettere in dubbio che la sua esistenza sia giustificata, allora ci deve essere anche qualcosa che chiameremo senso della possibilità. Chi lo possiede non dice, ad esempio, qui è accaduto questo o quello, accadrà, deve accadere. Ma immagina, qui potrebbe o dovrebbe accadere la tale o tal'altra cosa. E se gli si dichiara che una cosa è com'è, egli pensa, beh, probabilmente potrebbe anche essere diversa. Cosicché il senso della possibilità si potrebbe anche definire come la capacità di pensare tutto quello che potrebbe ugualmente essere, e di non dar maggiore importanza a quello che è, che a quello che non è. Come si vede, le conseguenze di tale attitudine creativa possono essere notevoli, e purtroppo non di rado fanno apparire falso ciò che gli uomini ammirano, e lecito ciò che essi vietano, o magari indifferenti l'uno e l'altro. Questi possibilisti vivono, si potrebbe dire, in una tessitura più sottile, una tessitura di fumo, immaginazioni, fantasticherie e congiuntivi. Quando i bambini dimostrano simili tendenze, si cerca energicamente di estirparle, e davanti a loro quegli individui vengono definiti sognatori, visionari, pusillanimi, esaccenti o sofistici. Chi vuol lodare questi poveri mentecatti li chiama anche idealisti, ma evidentemente con tutto ciò salude soltanto al tipo debole, che non sa capire la realtà, o la fugge temendo di farsi male, per cui dunque l'assenza del senso della realtà è davvero una mancanza. Il possibile però non comprende soltanto i sogni delle persone nervose, ma anche le non ancordeste intenzioni di Dio. Un'esperienza possibile e una possibile verità non equivalgono a un'esperienza reale e a una verità reale, meno la loro realtà. Ma hanno, almeno secondo i loro devoti, qualcosa di divino in sé, un fuoco, uno slancio, una volontà di costruire, un consapevole utopismo che non si sgomenta della realtà, bensì la tratta come un compito e un'invenzione. La terra in fin dei conti non è affatto vecchia e non si può dire che il suo grembo sia mai stato veramente benedetto. Volendo distinguere comodamente la gente che ha il senso della realtà dalla gente che ha il senso della possibilità, basta pensare a una determinata somma di denaro. Tutto ciò che mille marchi, ad esempio, contengono in fatto di possibilità, lo contengono senza dubbio, che uno li possegga o no. Il fatto che li possegga il signor tu o il signor io non aggiunge a loro nulla, come non aggiungerebbe nulla a una rosa o a una donna. Ma uno stotto li nasconde sotto il materasso, dicono i realisti. E un savio ne fa qualche cosa. Persino alla bellezza di una donna viene innegabilmente tolto o d'aggiunto qualcosa da colui che la possiede. È la realtà che suscita la possibilità e nulla di errato come il negarlo. Tuttavia, nella media o nella somma, rimarrebbero sempre le stesse possibilità, che si ripetono finché viene qualcuno per il quale una cosa reale non vale di più che una immaginaria. È lui che dà finalmente senso e determinazione alle nuove possibilità e le suscita. Un uomo siffatto è però un caso tutt'altro che semplice, perché le sue idee, quando non siano oziose fantasticherie, non sono altro che realtà non ancora nate. Anche egli possiede il senso della realtà, ma è un senso della realtà possibile e perviene molto più lentamente alla meta che non il senso insito nella maggior parte degli uomini delle loro reali possibilità. Chi vuole, per così dire, il bosco? Egli vuole, per così dire, il bosco e gli altri vogliono gli alberi. E il bosco è qualcosa che è difficile definire, mentre gli alberi significano tanti e tanti metri cubi di una determinata qualità di legno. Forse lo si può esprimere anche meglio dicendo che l'uomo dotato di un normale senso della realtà somiglia a un pesce che abbocca l'amo e non vede la lenza, mentre l'uomo dotato di quel senso della realtà che si può anche chiamare senso della possibilità tira la lenza e non sa lontanamente se vi sia attaccata un'esca. A questa eccezionale indifferenza per la vita abboccante all'esca si contrappone per lui il pericolo di compiere azioni assolutamente strabilianti. Un uomo non pratico ed egli non appara soltanto tale, ma lo è, in effetto risulta malfido e imprevedibile nella relazione umane. Commetterà atti che per lui hanno un significato diverso che per gli altri, ma a tutto troverà giustificazione se può ridurlo a un'idea fuori del comune. E per giunta, oggi è ancora assai lontano dalla logicità. È assai facile che un delitto, dal quale un altro risente danno, gli appaia semplicemente come uno sbaglio da imputarsi non a chi lo ha commesso, ma all'ordinamento della società. È incerto però se uno schiaffo da lui ricevuto gli parrà un'ingiuria alla società, o almeno impersonale come il morso di un cane. Probabilmente, invece, restituirà innanzitutto lo schiaffo e solo in seguito gli verrà in mente che non avrebbe dovuto farlo. E ancora, se gli portano via l'amante, non saprà oggi come oggi prescindere del tutto dalla realtà di questo fatto e consolarsi con un nuovo impreveduto sentimento. Per ora questa evoluzione è ancora in atto e costituisce per l'uomo singolo tanto una debolezza quanto una forza. E poiché possedere delle qualità presuppone una certa soddisfazione di constatarle reali, è lecito prevedere come ad uno cui manchi il senso della realtà anche nei confronti di se stesso possa un bel giorno capitare di scoprire in sé un uomo senza qualità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.